Buongiorno a tutti, sono Di Alberti Gianluca di Epson Italia e sono responsabile della divisione video produttori professionali. Quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo deciso di partecipare a MIR 2019 perché riteniamo sia un evento importante nell'ambito soprattutto rental e service e è un momento per poter incontrare magari clienti, soprattutto provenienti dalle regioni del centro-sud che difficilmente riusciamo a incontrare durante l'anno in modo costante e continuativo. Quest'anno, come Epson, abbiamo partecipato a MIR con due installazioni, la prima presso il palco teatro, presentando e installando dal vivo un nuovo prodotto che si chiama L20.000, che è un 20.000 lumen videoproiettore laser che è il più compatto del mercato, che ha in configurazione due macchine in stack e retroproiettato sul palco teatro. E poi abbiamo deciso di aderire anche alla Integra Live, quindi uno spazio espositivo ma soprattutto di presentazione, di casi, di case history che ha destato, diciamo, di scritto interesse per quanto riguarda l'integrazione di sistema. Comunque è stata un'occasione di incontro decisamente positiva e sicuramente come Epson pensiamo di poter partecipare anche il prossimo anno.